Da 18 anni c'è una grande festa per portare Marta Lusso, più deciso nel 1997, con la famiglia della giovane stilettrice, con l'attrice degli organi, tanti campioni, un festo maschoso per l'eterno e il più preziano. Noi abbiamo visti che erano dei ragazzi, dei ragazzi che mano a mano sono cresciuti, sono cresciuti dal punto di vista sportivo, ma sono cresciuti anche come persone, perché sono diventati adulti e addirittura abbiamo il papà. Elisa di Francesca, due odio edutrici a Londra, un accento a Rio, da poco mamma, ha scelto l'evento per il Dio Unite d'Anna, premiata insieme a Mauda, Leopapà, Carolina Erba. Io li prendo in maniera tranquilla, nel senso che ancora entri con me, lo porto comunque all'atto, allatterò fino all'esplettamento, inizierò in maniera proprio seria, agonistica, e a noi abbiamo. E di casa, una stella per Marta, Valenio, Stomonte, insieme a una compagna, Carolina Erba, Leopapà di Leone. I miei impegni sono al momento schermistici, sono le gare del top del mondo, la prossima sarà a Torino, la prossima settimana. E poi, quello più importante che ha una famiglia è far crescere bene il mio figlio.